Giovedì 14 settembre, su richiesta della Procura, il Tribunale di Genova, ha deciso di sequestrare in modo preventivo e provvisorio diversi conti correnti della Lega Nord. Quelli di alcune sezioni regionali e attivi in sei diverse banche in Emilia-Romagna, Liguria e Trentino. La decisione è arrivata dopo una serie di condanne in primo grado ad Umberto Bossi e all'ex tesoriere del partito Francesco Belsito. Il Procuratore di Genova Francesco Cozzi ha spiegato che se la condanna in primo grado non verrà confermata in appello, o in Cassazione e i soldi saranno restituiti. Nel luglio del 2017 il Tribunale di Genova, aveva condannato per truffa ai danni dello Stato il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, suo figlio Renzo Bossi, l'ex tesoriere del partito Francesco Belsito, altri tre dipendenti del partito e due imprenditori coinvolti nello scandalo dei rimborsi ricevuti dalla Lega Nord e utilizzati per spese personali dalla famiglia Bossi. In primo grado Bossi era stato condannato a due anni e tre mesi di carcere, Belsito a due anni e sei mesi e Renzo Bossi a uno anno e sei mesi. Riccardo Bossi, il primogenito di Umberto, era invece già stato condannato a due anni e mezzo nel marzo 2016 con il rito abbreviato. Il Tribunale aveva anche deciso di procedere alla confisca di circa 48 milioni di euro al partito, a garanzia per i rimborsi ingiustamente riscossi. Lo scandalo era nato nei primi mesi del 2012. Quando Belsito venne indagato per la sua gestione dei rimborsi elettorali ricevuti dal partito, trasferiti in alcuni casi all'estero, dove erano stati investiti in varie attività, tra cui l'acquisto di diamanti. La contestazione dei magistrati riguardava 56 milioni di euro nel periodo tra il 2008 e il 2010. La storia aveva portato alle dimissioni di Bossi dalla carica di segretario della Lega Nord.